Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza, ma secondo voi perché le case costruttici di autoveicoli, le più grandi al mondo, stanno comunque continuando a dire che il motore termico, quindi benzina-gasolio, non andrà da nessuna parte, quindi vivrà a lungo? Secondo voi hanno ragione? Probabilmente sì. In questo video parleremo appunto del perché, secondo me, le autocombustione avranno ancora una vita molto lunga. E quali sono le principali problematiche che stanno affrontando ora le auto elettriche? Allora, lo scopo di questo video non è assolutamente convincervi a non comprare un'auto elettrica. Io ho un'auto elettrica e ne sono veramente molto entusiasta, come potete immaginare. Ma vi voglio dare delle informazioni e delle nozioni di base, diciamo, del perché in questo momento l'auto elettrica sta soffrendo un pochino la differenza con le auto a combustione. E del perché è ancora utile migliorare il motore a combustione. Il commento più comune che viene scritto qui sotto è Ma dove volete andare voi con quei tombini elettrici che inquinano, che non sono efficienti, eccetera, eccetera. Quindi questo video, diciamo, che è una mia spiegazione personale a voi e a tutti quelli che commentano, in tal senso, del Ok, proviamo ad analizzare insieme la situazione. Piccola interruzione per dirti, se non lo hai già fatto, iscriviti al canale e accendi la campanella. Già che ci sei, se sei un tipo da Telegram, puoi anche iscriverti al gruppo Telegram. E se proprio proprio, iscriviti ad Instagram e anche a Facebook, così. E via, crepi la valizia. Ok, quindi, ora parliamo della più grande difficoltà che stanno, in questo momento, affrontando tutti gli ingegneri che stanno progettando le auto elettriche. La batteria, ossia la densità di energia che riusciamo a stoccare all'interno di una batteria in confronto con la benzina. Allora, un litro di gasolio sono circa 10 kWh di energia. Ok, ma a causa della scarsa efficienza del motore a scoppio, solo 3,5 kWh sono utilizzabili. Un litro di gasolio pesa circa 750 grammi. Ok, probabilmente avete già capito dove voglio arrivare. Se una batteria da 75 kWh, che è la batteria, diciamo, della mia Tesla Model 3, viene, diciamo, messa a confronto con il gasolio, dobbiamo fare una semplice operazione matematica. Facciamo 75 kWh diviso 3,5. Hey Google, fammi 75 kWh diviso 3,5 kWh. La risposta è circa 21,428.571. Vabbè, 21. Quindi... Andor Blu così è resa contenta. Quindi, 21 sono i litri, diciamo, equivalenti di gasolio di una batteria a 75 kWh, che, diciamo, è già una batteria con tanta autonomia. Ok, 21 litri. Ok Google, fai 21 per 750. La risposta è 15.750. 15.750 grammi, che sono equivalenti a 15 kg. Ok, e qui già praticamente abbiamo capito qual è il grandissimo problema delle auto elettriche. Il peso. In questo momento, con 15 kg di gasolio, noi abbiamo la stessa identica resa di un'auto con una batteria a 75 kWh. Allora, lasciando stare il prezzo del gasolio, della benzina, della batteria e lasciando stare anche il fatto che le auto non tutte sono start and stop e quindi, quando si è fermi al, diciamo, semaforo, l'auto comunque continua a bruciare benzina o gasolio. Il problema più grande, oltre al peso, è il volume, perché 15 kg di gasolio stanno in un serbatoio relativamente piccolo, relativamente piccolo, in confronto ad una batteria da 75 kWh. Quindi, a parte tutte le questioni ambientali, diciamo che anche chi va a costruire un'auto elettrica, chi non è Tesla, ma gli altri costruttori di auto elettriche, hanno diversi problemi ingegneristici. Perché comunque, per avere una grande autonomia, le auto devono avere una grande batteria, i motori devono essere molto efficienti e devono anche però riuscire a vendere un'auto che sia spaziosa e che la gente vuole comprare. Quindi capite come mai Tesla è molto più avanti degli altri? In effetti, gli altri si devono scontrare con tutte queste problematiche. Allora, in base alle mie ricerche, una cella singola di una batteria ha una densità di energia massima di 650 Wattora. Per avere una batteria da totale 75 kWh 115 celle per fare una batteria da 75 kWh. Ok, immaginatevi il volume di queste celle come un quadratino. Quindi ci vorranno tantissime. E diciamo che più o meno lo spazio per il gasolio sia questo. Quindi a questo punto il volume è molto molto importante e all'interno di un'auto il volume è diciamo fondamentale. Quindi per fare le auto elettriche al momento le auto devono comunque essere grandi oppure bisogna sacrificare completamente diciamo lo spazio del bagagliaio. In effetti più grandi sono i veicoli, più grandi sono anche le batterie. Provate a guardare Model 3, Model X e Model S. Model 3 ha una batteria da 75 kWh mentre Model X e Model S hanno una batteria più grande da 100 kWh. Ora sicuramente la tecnologia sta facendo dei grossi passi in avanti per risolvere questo problema che è il problema principale delle auto elettriche. Quindi il volume delle batterie. Tra l'altro il confronto è un po' strano perché un litro di gasolio occupa veramente molto meno spazio rispetto all'equivalente litro quindi 3,5 kWh di batterie. Anche perché le batterie sono divise in celle da 650 kWh e quindi tante celle il posizionamento e il volume è inefficiente in questo momento nelle batterie. Comunque non si può fare una batteria gigante a polimeri di litio senza dividere in piccole celle per fatti di sicurezza ma anche perché le batterie non sono intese così. Beh per quanto riguarda il peso che è molto importante in un'autovettura le auto elettriche pesano notoriamente di più ovviamente perché hanno la batteria. Parlando di densità di energia di una batteria al litio stiamo parlando di circa 240 Wattora al chilogrammo. Quindi più o meno su una batteria da 75 kWh dovrebbero essere circa 312 i chilogrammi che servono per la batteria. Ma in realtà non c'è solo la cella in sé quindi il litio eccetera la parte chimica. C'è anche tutta la parte metallica della batteria in sé che più o meno su una Tesla Model 3 come la mia quindi performance o long range pesa più o meno 650 kg. Oltretutto c'è liquido refrigerante all'interno quindi ci sono tutta una serie di cose e componenti che aggiungono sicuramente tanto peso alla batteria. Quindi se oltre alle auto proviamo anche solo a pensare ai prossimi sviluppi delle batterie e della mobilità elettrica. Se pensiamo per esempio agli aerei in questo scenario in questo momento se noi pensiamo ad un aereo che viaggia con le batterie elettriche dovremmo avere avremmo un aereo molto molto pesante che probabilmente non avrebbe più spazio per mettere le valigie delle persone che poi ci vanno e molto probabilmente poche persone potrebbero viaggiare con quel tipo di veivolo e molto probabilmente volerebbe per poco tempo. Quindi in questo momento siamo in un momento storico in cui le auto con le batterie che portano dai passeggeri hanno assolutamente senso mentre invece applicazioni più grandi della mobilità elettrica in questo momento non hanno senso. Ma la buona notizia è che la tecnologia delle batterie si sta muovendo molto molto velocemente quindi probabilmente entro fine anno questa parte di batteria non sarà più utile oppure avremo la stessa parte di batteria però con un'autonomia veramente maggiore. Utilizzando poi tecnologie diverse come le batterie allo stato solito e le batterie all'idrafine probabilmente arriveremo ad uno stadio di questo tipo ma probabilmente sarà molto difficile riuscire ad arrivare qui. Ed è per questo che tanti costruttori di automobili stanno ancora investendo sull'innovazione del motore termico. Ok siamo arrivati adesso alla questione dei costi. effettivamente acquistare un'auto elettrica in questo momento costa più o meno 10.000 euro in più di un'auto dello stesso segmento. Però qui facciamo un po' il gioco del gatto che si morde la coda. No è il cane in effetti che si morde la coda. Se nessuno compra le auto elettriche per questo motivo ovviamente le auto elettriche verranno prodotte di meno e quindi il costo rimarrà tale. Più auto elettriche vengono prodotte più auto elettriche vengono vendute più la ricerca andrà avanti e molto probabilmente anzi sicuramente il costo calerà sensibilmente. Questa non è sicuramente una transizione che si avrà nel brevissimo tempo. Però io mi auguro che almeno in 5 anni avremo delle auto elettriche più piccole più leggere e più efficienti di oggi. Effettivamente però non credo che sia questo il problema diciamo delle auto elettriche. Cioè il fatto che costino tanto e quindi la gente non le compra perché costano tanto. Quasi tutti compriamo nuovi giochi quindi non è tanto quello. Comprare un'auto è una cosa che ti viene da dentro cioè ancora adesso non so se sia un bene o un male ma è una cosa che sentiamo che ci fa venire la pelle d'oca quando andiamo a provare un'auto la vogliamo comprare perché comunque fa parte di noi la nostra vettura non è tanto nella nostra società comunemente una cosa che ci porta da un punto A a un punto B quindi un mezzo per ottenere un fine. Se tutti pensassero al costo totale dell'avere un'auto nessuno andrebbe a comprare un Ferrari tutti quei brand potentissimi di auto bellissime nessuno probabilmente comprerebbe quelle andremmo tutti in giro con la Fiat Panda e quindi allora ora proviamo a parlare un po' di ambiente da uno studio si evince che circa due o tre miliardi di autovetture saranno vendute da oggi fino al 2045 quindi visto che comunque queste autovetture verranno vendute perché non migliorarle? quindi io credo che comunque sia fondamentale che la ricerca vada avanti a studiare e a migliorare a rendere più efficienti a renderli più green anche i motori a combustione interna questo mio video è per rispondere a tutte quelle persone che hanno ancora dubbi e ancora si domandano come mai le auto elettriche non abbiano sfondato completamente il mercato allora visto che le auto elettriche sono green super positivo funzionano benissimo si ricaricano velocemente bla 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 perché ancora il diesel è comunque studiato e portato avanti bene queste sono le mie impressioni personali mi raccomando lasciate un commento se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto nel frattempo io poi vi ricordo che se volete acquistare la nuova Tesla potete utilizzare il codice qui a fianco per avere 1500 km gratuiti di ricarica al supercharger per oggi è tutto ragazzi noi ci vediamo al prossimo video grazie di essere stati con me ciao ciao